Fine d'anno in rosa per Auronzo di Cadore, il paese delle tre cime di Lavaredo ospiterà il 26 maggio prossimo la 19esima tappa del Giro d'Italia, il cui logo è stato presentato ufficialmente al rifugio Auronzo, posto a oltre 2.300 metri di altitudine. La tappa regina del 106esimo giro si snoderà per 182 chilometri, con 5.400 metri di dislivello portando i corridori ai piedi delle montagne più iconiche delle Dolomiti. Dieci anni fa Vincenzo Nibali si impose sotto una fitta nevicata proprio sul traguardo del rifugio Auronzo il 25 maggio 2013. Oggi l'atmosfera torna rovente nell'attesa di rivivere le stesse emozioni in rosa ed è previsto un ricco calendario di eventi pretappa. Abbiamo colto con entusiasmo la proposta perché avere il Giro d'Italia è una promozione del territorio unica. La nostra volontà è fare in modo che il Giro d'Italia non sia un qualcosa a sé stante ma sia anche il motore di lancio per il territorio. Ricordiamo il progetto Tre Epiche che si era concluso con il campionato del mondo marathon adesso si vuole ripartire proprio da quel progetto utilizzando il Giro d'Italia come spinta. Il logo è una cosa semplice di per sé perché non abbiamo voluto creare un qualcosa di nuovo ma abbiamo voluto guardarci attorno e capire cosa c'era di pronto. L'icona in assoluto sono le tre cime di Lavaredo, attorno a questo era già stato realizzato un logo di promozione territoriale che viene usato già dal consorzio Auronzo Tre Cime. Abbiamo cambiato solo il tematismo cromatico quindi abbiamo realizzato il logo con il colore rosa evidenziando le tre cime di Lavaredo ma soprattutto creando un elemento di pregio del logo caratterizzato dalla ruota visto che tutto questo è contestualizzato a un progetto legato al cicloturismo.